Cassano, Pilozzi, Grassi, Pilozzi ancora non riesce a votare. Chi altro deve votare? Mi pare che ci siamo. Qui hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 61, contrari 302, la Camera respinge. Adesso metto in votazione l'articolo 31 bis. Nessuno chiede intervenire. La votazione è aperta. Prego. Andrea Romano. Chi altro? Romano ancora no. Bene. Romano è riuscito? Sì. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 277, contrari 155, la Camera approva. Siamo all'articolo 32, quindi chiederei al relatore Martella i pareri. Prego. Al 32? No, sono tutti i contrari. Relatore Martella. Sì. Allora, Presidente, relativamente all'articolo 32 i pareri sono contrari, tutti i contrari tranne il 32.404. Aspetti però se mi dà la pagina del fascicolo. Sì, la pagina 32.404. A pagina 20? 32.400 ha detto? 4. 404. D'accordo. Il parere è favorevole, gli altri tutti i contrari. Allora, relatore all'Asia, prego. I pareri degli eventi dell'articolo 32 sono favorevoli. Tutti favorevoli? Tutti favorevoli. Va bene. Allora, Sottosegretaria.